un cordiale saluto buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino oggi è martedì siamo a martedì 12 luglio 2022 questa è fano tv canale 19 del digitale terrestre come sempre siamo qui per al mattino alle 7 in diretta per leggervi i giornali o meglio i titoli fare un commento anche sul della stampa del giorno sulla stampa del giorno allora andiamo però prima a vedere il salto di oggi poi il tempo e il collegamento con i bagnati allora andiamo sul sul santo del giorno oggi sono i santi ermagora il fortunato di aquileia il sole è sorto alle 5.37 tramite alle 20 e 51 andiamo subito a vedere il tempo allora il tempo ancora una volta avevamo una sigletta adesso non c'è più forse sì ok allora il tempo lo vediamo da trebimeteo.com allora intanto questa è la situazione della notte non so se se si è verificata ma vabbè questa invece la mattinata e il pomeriggio è quello che ci interessa di più la mattinata intanto vedete sulla provincia di peso urbino potrebbero scapparci delle 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 piogge ma soprattutto quello che interessa vedete il pomeriggio quando la nostra regione sarà interessata soprattutto sull'arco appenninico da temporali anche di forte intensità soprattutto il centro nord la costa centro settentrionale dovrebbe essere interessata da qualche pioggia ma con schiarite invece nelle alte colline la fascia alta collinare soprattutto in provincia di macerata oggi dovrebbe esserci pioggia pioggia insistente insomma questa è un po' l'evoluzione poi la sera come vedete cambierà un po' tutto risparrà un po' di pioggia residua nella parte centro meridionale della regione ma più o meno ecco questo è quello che succederà dovrebbe succedere perché qualche le previsioni ultimamente insomma anche ridosso di qualche ora insomma non sempre ci azzeccano come come si dice allora adesso andiamo invece per avere un'idea più certa perché mi fido di più anche perché così abbiamo uno spaccato buongiorno marco guarda nel senso guarda che buongiorno ieri avevi un quadro stupendo dietro ma anche oggi sono belli colori guardate questo mare argentato con questo arancione e queste nuvole così belle pare che piova anche poi in mezzo la giuvedo degli scori a largo sì sì a largo sta piovendo mi alzate l'audio un po' in scia d'acqua ecco vedo dei televisori da noi sulla sinistra sulla sinistra pare che lì ci siano insomma parecchia pioggia sì 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 sul largo sta piovendo decisamente fortunatamente finché piove là siamo salvi siamo salvi poi poi anche se poi noi abbiamo bisogno di acqua e qua la terra ha bisogno di acqua sì marco no invece volevo farti volevo capire dietro com'è messo il mare stamattina ci sono allora ci sono c'è che cos'hai dietro una specie di c'è una bassa marea ah ecco una bassa marea che che crea abbiamo la sabbia fuori ecco vedi vedi la famosa secca eccola qua quello che quando uno guarda e vede allora ricordiamo ai nostri telespettatori che siamo ai bagnalda e siamo nella zona di ponte sasso quindi questo per darvi una collocazione geografica dunque però io volevo farti vedere marco tu la vedi no la fotografia nel tutto nel tuo telefono eccola qua questa immagine che sta circolando tra l'altro su sulla rete sta facendo un po il giro in questi giorni non so per quale ragione io l'ho presa da un sito dell'emilia romagna allora vorrevo chiederti una conferma se ciò che ti dirò è vero oppure oppure no allora se i nostri telespettatori vedono guardano bene questa fotografia potranno vedere a sinistra e a destra delle frecce il mare un po agitato quindi le onde allora quando si vedono le onde poi una piccola porzione di onde cosiddette piatte qui in mezzo ecco qui vedete qui dentro in questa porzione praticamente le onde non ci sono vedete non c'è la schiuma sembra quasi piatta ok allora in mezzo ci sarebbe appunto questa corrente che viene definita di risacca in quell'area cioè qui dentro l'acqua si muove in direzione opposta e quindi si trova chi si trova in quell'area viene risucchiato verso il mare ora state lontane state lontano da queste zone di risacca perché non è un posto tranquillo per uscire con i bambini piccoli ma anche per gli adulti chi si dovesse trovare nel mezzo della risacca il modo migliore per uscirne non è nuotare contro corrente quindi verso la riva ma no decisamente di lato ecco mi confermi marco questa cosa sì 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 confermo perché la corrente è sotto ciò non si vede è che ti trascina dentro non in una maniera esagerata però non riesce a uscire come si dovrebbe ecco quindi abbiamo imparato questa cosa nuova questa corrente di risacca quindi osservare il mare credo marco sia importante anche al mattino fondamentale sempre non è una piscina che entri dentro e non ci sono correnti perciò è sempre bene guardare e soprattutto non superate le boi bianche queste che si vedono sempre qua indicacene col dito faccio vedere guarda le vedi esatto quelle boi bianche dove ci sono queste ragazze che stanno camminando queste qua ecco lì vuol dire vuol dire vuol dire che lì c'è un metro d'acqua ecco quindi già lì c'è un metro d'acqua perciò quando c'è il mare mosso cercate di stare nel limite bene marco allora oggi come sarà il tempo immagino anche lì le tue previsioni saranno confermano anche quando nel massimo e nel pomeriggio dovrebbero fare due dovrebbero fare due cucine d'acqua però cambia di continuo perciò non riusciamo a capire neanche noi però vedere così oggi è una giornata un po' da mercato diciamo ma soprattutto sono inquietanti quelle nuvole laggiù nere scure quelle rimangono là sì decisamente sì decisamente meglio che stanno là lasciamole laggiù per carità vabbè anche voi avrete il problema delle mareggiate immagino qui anche sulla pagina di pesero questa mattina del Corriere Adriatico si parla di questo problema che riguarda appunto i bagnini dei tuoi colleghi peseresi che ce l'hanno un po' con il comune che ha fatto i ripascimenti molto ancora qualcosa stanno facendo insomma il ripascimento della spiaggia con notevole ritardo grazie Marco ci vediamo domani allora per il nuovo ci vediamo buona giornata a tutti e buon lavoro adesso noi invece ci concentriamo un po' sui giornali sulle notizie del giorno cominciamo dal resto del carlino questa è la prima pagina dell'edizione di pesero e urbino la fotonotizia è per il lutto che ha colpito tutta la comunità di colli al metauro ma un po' tutta la tutta la provincia il dolore senza fine questo è il titolo di questa di questa fotonotizia che ricorda i funerali che si terranno oggi pomeriggio di Davide e del figlio Fabio intanto è partita anche una maxi raccolta fondi per la famiglia Davide Zandri 44 anni con il piccolo Fabio di 8 non ancora compiuti morti tra le onde a Gimare il titolo d'apertura è per la mobilitazione per la sanità del sindaco di pesero ricci sindaco che chiama raccolta la città contro la riforma che cancella di fatto Marche Nord l'opposizione invece parla di allarmismi faceva il pieno di benzina a isola del piano siamo sempre nel pesarese con la tessera del comune è stato arrestato un dipendente intanto sull'altro fronte della sanità affano chiude psichiatria esplode la rabbia del personale l'addio a Fanuli il presidente del tribunale di pesero ha saputo unire giustizia e umanità e a San Costanzo la cronaca trovato un chilo di cocaina dentro casa dell'ambulante e sotto poi lo sport con la VL su Justin Robinson nuova offerta a Maieris mentre sul Metauro SOS siccità saranno limitati i prelievi questo per quanto riguarda la siccità poi c'è un omaggio sempre del comune di pesero la benemerenza a Signoretti l'imprenditore mecenata andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico sempre la pagina di Peso Urbino la fotonotizia per l'incubo mareggiate lo dicevamo poco fa con Marco De Bagnalda appunto niente ombrelloni per i turisti perché comunque queste mareggiate complicano la vita soprattutto per chi deve far tornare i conti i numeri degli ombrelloni qualche fila viene stata sacrificata e quindi ce ne sono pochi per i turisti Angar siamo a 9 milioni invece il via libera al nuovo mutuo dal Consiglio Comunale di Pesero stiamo parlando del Palace quello che un tempo era il tempio dello sport il tempio del basket peserese quello che sta sulla statale ebbene sul Palace va nella battaglia dell'opposizione il Comune ha dato il via libera il Consiglio anzi Comunale di Pesero ha dato il via libera per accendere un nuovo mutuo è un pozzo senza fine praticamente questo Angar che continua a chiedere soldi soldi e soldi per essere terminato esposto di Fratelli d'Italia ma Ricci ironizza si fanno denunce quando la politica è senza temi poi si parla ancora questa mattina sulla pagina del Corriere ma ve le risparmio due pagine dove parlano gli esperti anche locali del Covid far circolare Omicron 5 prima mettiamo i fragili al sicuro è inutile nascondercelo praticamente in questo momento c'è una marea di gente che ha preso per l'ennesima volta il Covid i numeri rispetto a quelli degli anni scorsi anche all'inizio quando eravamo vaccinati insomma erano sono completamente diversi questo dovrebbe far riflettere ma ormai non riflettiamo più lasciamo perdere prima mettiamo i fragili al sicuro questa potrebbe essere la cosa saggia di tutto di tutto l'articolo comunque fatto è che la gente in questo momento sta affrontando questa nuova ondata ma in maniera assolutamente molto serena e molto tranquilla anzi la scocciatura è quella di stare a casa perché poi chiaramente quando viene certificato uno deve stare a casa sette giorni se è vaccinato e se un po' di più invece se non lo è ma comunque poi al 99% si risolve tutto in maniera tranquilla e senza tanti patemi d'animo come invece ci vogliono far credere questi dei giornali allora per gli insulti social invece al primo cittadino chiesta la condanna parliamo sempre di insulti riferiti a Matteo Ricci questi famosi ATER questi che di professione più o meno di professione insultano la gente su internet un altro è stato pizzicato e un altro adesso dovrà pagare una multa è fumata nera invece per le nomini di ASET scontro sul futuro e poi tragedia del mare lutto cittadino per Fabio e Davide oggi a Colle del Metauro l'ultima notizia sempre dalla prima pagina del Corriere Regione Confindustria che confusione sui binari Mancinelli bordate su politici e imprenditori Acquaroli si è chiaro perché parla Bocchini poi l'accessibilità al Palazzo Ducale invece è migliorata è un'altra notizia che troverete sulle pagine interne del giornale ma io stamattina vorrei cominciare prima di entrare nelle faccende un po' più serie quelle che ci mettono anche un po' di tristezza con questa fotografia che pubblica il Corriere Adriatico di Senigallia guardate qua che cos'è allora vedete questa è la rotonda sul mare di Senigallia e guardate chi c'è sopra sul tetto addirittura della rotonda ci sono due sposi che stanno facendo le fotografie con tanto appunto di fotografo e questa fotografia ha fatto andare su tutte le furie il sindaco di Senigallia il titolo foto degli sposi sul tetto della rotonda all'ira del sindaco ora saranno puniti Olivetti il sindaco appunto è proibito dice è pericoloso vogliamo identificarli polemiche invece sulla musica fracassona il sindaco ricorda tra l'altro come scrive Sabrina Marinelli che domenica non si sono svolti i matrimoni alla rotonda ce n'è stato uno sabato in cui gli sposi si sono comportati molto bene lo scatto da brivido proprio non l'ha digerito e poi come dicevamo tante proteste per la musica ad alto volume ancora cronaca da Senigallia chiedevano soldi per finte associazioni di beneficenza allontanate dalla polizia quattro persone moleste un 25enne trovato con la droga e poi il problema sempre di Senigallia questo problema continua ogni estate una caparra da 1840 euro ma la casa non è in affitto incassa il denaro poi si dilegua famiglia milanese ingannata e questa è la pagina principale di Senigallia poi da Fano invece fumata nera per le nomine Aset conflitto sul futuro dell'azienda i comuni soci minoritari abbandonano la riunione il sindaco Seri ha in serbo i nomi che scottano dunque non c'è stata scrive Lorenzo Furlani questa mattina sul giornale non c'è stata alcuna nomina da parte dell'assemblea dei comuni soci di Aset convocata ieri anche per procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale al termine del mandato triennale degli attuali organismi la fumata nera a conclusione di una riunione nervosa scaturita dall'impossibilità materiale di trattare l'ultimo punto all'ordine del giorno è la dimostrazione tangibile del conflitto sotto traccia sul futuro aziendale rispetto alla fusione proposta da marche multiservizi e all'operazione del biodigestore volta a garantire al contrario l'autonomia di Aset e nel carnet di Fano nel carnet di Seri del sindaco di Fano sono segnati il vicepresidente Vincenzo Galasso confermato l'ex dirigente comunale Grazia Mosciatti indicati dal segretario del PD di Fano della Dora ma contestati per il metodo della scelta dalla minoranza di futuro democratico il presidente Paolo Reginelli confermato e un altro rappresentante delle liste civiche del sindaco che prende il posto già indicato da in comune l'uscente Francesca Polverari con la contrarietà di questa lista di sinistra la prossima convocazione avverrà alle 11 del prossimo 20 di luglio allora per tre mesi vietati invece i prelievi di acqua dal fiume Metauro ammesse le captazioni idropotabili e per abbeverare naturalmente gli animali chi verrà pizzicato prenderà anche sarà sanzionato con delle multe pesanti la violazione infatti scrive Massimo Foghetti in questo articolo la violazione alle disposizioni del suddetto provvedimento comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro e nei casi di particolare tenuità da 300 a 1.500 euro se uno prende un secchiello 1.500 se prende invece un bel po' d'acqua ovviamente paga di più anche il resto del carino questa mattina pagina 16 affronta l'argomento delle nomine ASE il PD si spacca ancora sulle nomine del CDA ha bocciato il nome di Bacchiocchi proposto dalla corrente minoritaria mentre i sindaci dei comuni soci abbandonano l'assemblea ancora dal carino i nuovi politici di domani tutti a scuola dalla Diocesi la Via al Via la Summer School al Don Orione e poi ancora dal giornale la pagina la pagina dedicata qui siamo sulla Valle del Metauro del Corriere la pagina dedicata alla tragedia del piccolo Fabio del Papa Davide oggi è luto cittadino per due comunità le esequie alle 14.30 nella chiesa di Calcinelli i sindaci Briganti e Sebastinelli chiedono con un documento ufficiale di sospendere le attività nell'orario in cui verranno appunto celebrati i funerali e poi c'è una raccolta fondi una raccolta fondi online che sta prendendo piede una gara di solidarietà per la famiglia di Davide Zandri la stanno organizzando come forma di sostegno concreto tanto la parrocchia di Calcinelli quanto gli amici, i parenti, i colleghi del papà morto in mare sabato scorso a Fano insieme al figlio di otto anni e una delle iniziative sta utilizzando la piattaforma digitale statunitense GoFaunmi che fino alle 19 di ieri aveva permesso di raccogliere quasi 17.000 euro frutto di 535 donazioni spontanee la promotrice Laura Martini spiega in un messaggio che i partecipanti garantiscono un grande contributo alla famiglia di Davide che aveva in lui solo l'unica fonte di reddito per dare un'idea della spinta solidale poco prima delle 16.30 le donazioni erano 354 quindi insomma tanta gente colpita da questa tragedia sta cercando in tutti i modi di aiutare la famiglia la famiglia con questa raccolta fondi poi invece i bambini siano educati alla sicurezza in mare è la richiesta del titolare dell'agenzia di salvamento che in alcune spiagge libere il comune di Fano ha organizzato un servizio di salvataggio in alcune spiagge libere del suo territorio affidato agli operatori delle associazioni incoming presieduta da Pedini Giampiero Pedini che da tempo si impegna in questo settore perfezionando sempre di più le tecniche e le conoscenze dei suoi bagnini per quanto essi facciano però non riescono sempre ad essere presenti in tutta la lunghezza della costa per cui nelle zone scoperte occorre aumentare nei bagnanti la prudenza e la consapevolezza dei rischi incombenti soltanto prima poco fa all'inizio di questa rassegna stampa se l'avete seguita appunto dicevamo come sia importante anche osservare il mare prima di entrarci perché come diceva Marco appunto giustamente non è una piscina uno non entra in piscina entra nel mare quindi ci sono tanti pericoli tante cose tante insidie e soprattutto ecco se uno conosce un po' il mare potrebbe già essere avvantaggiato questa fotografia dice tanto andiamo a vederla è una fotografia che ci dice un attimo un po' come come si sono vissute quelle ore drammatiche le ore delle ricerche il papà è stato trovato quasi subito portato a riva ma del bambino piccolo ci sono volute ore un elicottero a sorvolare il tratto di spiaggia a Gimarra e alla fine è stato trovato tra gli scogli e questa è la fotografia che spiega racchiude in uno scatto tutto il dolore di un soccorritore della guardia costiera durante le ricerche probabilmente anche lui sarà un papà un padre di famiglia quindi per quanto le forze dell'ordine sono come dire allenate a farsi scivolare addosso il dolore per i sentimenti per non per non per non soffrire troppo ma in questo caso era quasi impossibile resistere oggi l'addio Davide al piccolo Fabio Stefania ha una forza straordinaria Stefania è la mamma insomma la moglie di Davide a Calcinelli alle 16.30 il funerale la mamma 43 anni ieri è tornata al Salesi per stare accanto all'altro figlio che invece si è salvato Luca 13 anni le cui condizioni per fortuna grazie a Dio stanno comunque migliorando questa è la pagina e questa ce n'è un'altra ancora sulla tragedia di Gimarra questa è la pagina 5 del resto del Carlino colletta sul web 18.000 euro in poche ore attivata una raccolta di soldi sul sito GoFundMe per Stefania per Stefania e due figli è bastato pochissimo tempo per farla decollare mentre un gesto dal grande valore come scrive Tiziana Petrelli i sinti che gestiscono le giostre a Fano hanno raccolto 250 euro e hanno detto siamo stati tutti quanti colpiti da questa tragedia foto invece di un funerale che si è già c'è già stato a Pesaro il funerale del presidente del tribunale Fanuli folla in Duomo per l'addio ha unito giustizia e umanità la toga del presidente del tribunale sulla bara e accanto si sono alternati gli amici magistrati le parole del vescovo di Pesaro il ricordo di tanti colleghi ci lascia la passione civile di fare questo lavoro lo ricordiamo Fanuli è stato trovato morto in casa per un malore andiamo sulla pagina invece due del resto del Carlino si parla di psichiatria la nostra salute e psichiatria chiude il reparto fanese l'ira dei dipendenti da ricollocare l'area vasta conferma la grave carenza di medici l'accorpamento con Pesaro consentirà l'avvio dei lavori nel presidio del Santa Croce intanto c'è il nodo dei lavoratori 18 tra infermieri e OS dovranno spostarsi entro il 2024 l'area di Muraglia dovrà essere però sgomberata per l'avvio del cantiere del nuovo ospedale Ruggeri del Movimento 5 Stelle sulla tragedia dell'auditore dice nell'entroterra potenziare subito l'emergenza urgenza lo chiede il capo gruppo del Movimento 5 Stelle alla luce della trista vicenda della 61enne Ucraina di auditore deceduta in casa dopo un arresto cardiaco perché la prima ambulanza giunta per soccorrerla non aveva il medico a bordo perché questo medico aveva appena staccato il suo turno quando era giunta la seconda con l'equipaggiamento completo dopo 20 minuti però ormai era troppo tardi Galantara invece sarà covid free positivi a Macerata Feltri annesima riconversione per la struttura di Trebi Antico pazienti tra virgolette puliti anche a Sant'Angelo Invado e a Urbania da Fano ancora la pagina del resto del canino apre con la situazione che si trova un po' nella zona sud di Fano siamo nella zona delle brecce calcinacci dal cielo e toilette tra i canneti qui alle brecce siamo all'anno zero il comitato torna alla carica e chiede interventi all'amministrazione la strada delle barche è l'assist giusto in questa fotografia Roberta Pucci con il marito Andrea Pierelli insieme a Mauro Ginesi chiedono più attenzione e cura per il quartiere andiamo invece sull'altra pagina di Fano questa volta Fano ce la fa due progetti per l'atletica comune inserito nel bando sport e inclusione per rettifilo indoor pista e tribuna poi c'è la cronaca scontro tra un'auto e uno scuterone una donna fanese di 54 anni è rimasta ferita è stata portata con l'ambulanza al pronto soccorso e poi martellate sulla porta della Torre Campanaria i teppisti hanno tentato nottetempo di forzarla sono stati bruciati anche gli igienizzanti aveva in casa un chilo di cocaina arrestato un ambulante incensurato siamo a San Costanzo la consegna avveniva in auto da Perugia seguita dai finanzieri e la sua difesa dice ho fatto un favore a degli amici dunque un pacco che era partito da Perugia è arrivato con un'auto a San Costanzo all'interno c'era un chilo di droga e con appunto dentro un trentenne di origine marocchine ieri in carcere a Villa Fastigi di Pesaro l'udienza di convalida per un ragazzo incensurato trovato però in possesso dello stupefacente poi ruba 50 euro al veterinario in questo caso riguarda un 65enne di Viterbo già noto per una serie di furti commessi e insomma alla fine è stato condannato mentre andiamo lociamente sull'altra pagina ecco sulla pagina 8 del Corriere Adriatico questa è la foto del vecchio Palace di Pesaro un altro milione per concludere i lavori si tira dritto costi quel che costi l'opposizione da battaglia ma la delibera in Consiglio Comunale passa lo stesso oggi in giunta il via libera anche all'accensione di un nuovo mutuo che servirà appunto per avere questo milione pagare e sperare di vedere finiti questi lavori poi da Senigallia Maxi Albero piomba sul lungomare danneggiate 5 auto in sosta tragedia sfiorata in via Rieti per fortuna quando è crollato il pino non passava nessuno guardate questo pino questo enorme pino che si è abbattuto sulle auto in sosta e poi al portone invece sempre a Senigallia oggi l'ultimo saluto per la signora Liliana aveva 92 anni due comunità in lutto è una storica farmacista Liliana Aloisi che i senigalliesi sicuramente conosceranno per lei appunto nella chiesa di Santa Maria della Neve nota come il portone oggi l'ultimo saluto andiamo invece adesso sulla paglia di Urbino Torricino Sud restauro restaurato visitabili terrazza del Gallo e relativa loggia migliorati dunque l'accessibilità ai sistemi di sicurezza di Palazzo Ducale spazi che ora possono essere fruiti anche dal pubblico 728 velocemente fiumi sempre più magri limitazione ai perlievi un decreto del genio civile delle Marche Marche Nord fa scattare la misura da venerdì sono ammesse deroghe ma per chi sgarra ci sono multe come abbiamo visto fino a 30 mila euro e poi il comitato Provesco per avere ancora il Vescovo Audurbino oggi alle 20.30 nella sala Sarpieri del collegio Raffaello c'è un'assemblea e ancora Urbino che dice addio all'artista Enrico Ricci aveva 96 anni ed era stato tra i protagonisti della grande stagione della scuola del libro lavoratore instancabile la sua produzione è notevole è tutto grazie per aver seguito Occhio ai giornali ci vediamo stasera alle 20.30 per il telegiornale Occhio alla notizia arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.